Attenzione, astronauti delle stelle morte! Anche in questo capitolo potrete trovare altri indizi sull'identità del personaggio misterioso. Se siete convinti di averlo riconosciuto, scrivete pure il nome motivando anche la risposta nei commenti sotto al primo capitolo della serie. Mi raccomando, buon ascolto! L'Opera Suprema, ricercata per secoli da ogni mago, alchimista e scienziato della sconfinata storia dell'umanità, si era infine compiuta. L'oscura soglia era stata finalmente spalancata in entrambe le direzioni ed era stato lui, Rubeum, a fare in modo che ciò potesse verificare a costo di sforzi e studi che l'avevano condotto in fin di vita. Nelle ore seguenti al ritorno della navetta di esplorazione dalla sfera oscura che calleggiava indolente in quell'arcano angolo del cosmo, il redivivo cadavere era stato collegato a varie apparecchiature della stiva 2, che avevano scrupolosamente monitorato e registrato i parametri di quella nuova e stranissima vita. Sotto lo sguardo scintillante di stupore di Albeda, i dati risultavano chiari e senza alcunché di stravagante, si sarebbero detti quelli di un uomo in piena salute, non fosse per il semplice fatto che quella persona poco più di nove ore prima era morta. L'equipaggio della Magnum Opus si sentiva vibrare di una meraviglia oscura che non ha termini di paragone con nessuna sensazione provata da altri mortali, se non quelle descritte da certi mistici che affermavano di aver potuto assistere a miracoli o ad altre manifestazioni sovrannaturali. Ognuno di loro esprimeva il proprio sconcerto in varie forme. Xanthosis tracannava dalla fiaschetta, Nigred lustrava la plancia con un panno consunto, Albeda controllava e ricontrollava le funzioni vitali del corpo, Erubeum sfogliava il Necronomicon con febbrile euforia, la testa torturata dal martellante e ossessivo ripetersi del famigerato distico inesplicabile, formulato dall'ognemenita Abdul Al-Hazred. Non è morto ciò che può vivere in eterno, e in strani e uni anche la morte può morire. E questo era accaduto di fronte ai loro occhi. La morte aveva abbandonato quel cadavere come precedentemente aveva fatto la vita, ed esso si era colmato di nuova energia sconosciuta che ne aveva riattivato le funzioni, facendo tornare il cuore a battere e i polmoni a miscelare ossigeno nel sangue. Solo la mente per il momento era chieta. Le opportunità che quella loro scoperta offriva erano infinite. Rubeum sentiva la sua capacità di pensare e ingolfarsi da tante che erano le prospettive che poteva formulare. Erano in possesso del segreto più potente che mai fosse esistito nell'intero universo, più strabiliante della scoperta del fuoco o della ruota. Anche razze più progredite evolutivamente e tecnologicamente degli umani si sarebbero inchinate di fronte a loro, venerandoli come dei pur di apprendere la conoscenza che sconfiggeva la morte. Nel mezzo di tali elucubrazioni di gloria e potere, un urlo terribile lo indusse a sussultare. Il grido ancora non si era del tutto spento, che il bibliofilo già stava caracollando sulle sue protesi di titanio nel corridoio, con il cuore in gola e i pensieri tutti rivolti al redivivo che giaceva nella stiva. Quando raggiunse la stiva, vide che il mercenario e il pilota erano accorsi a loro volta, tesi e carichi di ansietà. Xanthosis, abituato a rispondere agli stimoli con la violenza, imbracciava già un voluminoso fucile d'assalto, la cui canna tradiva un lieve tremito. Albeda stava con la schiena aderente a una parete, e il terrore del suo volto non può essere espresso. I loro occhi erano rivolti all'interno della stiva, e fu in quel punto che Rubeum rivolse i propri, sentendo il fiato mozzarsi nei suoi poveri polmoni deteriorati. Il corpo non giaceva più nella capsula, ma era ritto in piedi, polgendo loro le spalle in una grottesca visione delle scapole che affioravano sotto il sottile e biancastro strato di cute. Un braccio era inerte lungo il fianco, ma l'altro era sollevato, e lo sussuto dito indice era intento a tracciare con l'unghia una sequenza pigra di cerchi su un pannello metallico. Dei tatuaggi che gli costellavano il corpo non restavano che vaghe ombre sbiadite, mentre i simboli che il bibliofilo vi aveva tracciato sopra durante i rituali spiccavano vividi e lucidi. Seguirono momenti di grande tensione, poiché nessuno dei presenti aveva ben chiaro come procedere o anche solo come rivolgersi a una creatura che aveva solcato il confine ultimo dell'esistenza per poi tornare indietro. Quali misteri avevano veduto i suoi occhi? Che genere di visioni erano rimaste impresse nella sua memoria? Il re di vivo, con fare lento ma nient'affatto goffo o impedito, fece un giro su se stesso. Lineamenti e tratti erano quelli dell'ex detenuto, che all'inizio di quell'incredibile viaggio l'equipaggio aveva prelevato dal satellite detentivo NF-1330, eppure al contempo non era più lo stesso individuo. Dietro la sua espressione di assoluto ascetismo si indovinava la presenza di una personalità sconosciuta e di natura non indagabile. Gli occhi erano come piccoli e perfetti globi di vetro riempiti di fumo bianco, nei quali però si poteva scorgere una lieve lucentezza dorata che dava loro una parvenza di vita inquietante. Difficile dire se stesse osservando il piccolo gruppo di scioccati cosmonauti. L'inespressività del suo sguardo non tradiva emozioni e l'assenza di iridi e pupille non consentiva di capire dove volgesse la sua attenzione. Come compì qualche passo in avanti, il mercenario sollevò ancora più la sua arma, pronto a far fuoco, ma prontamente Rubeum gli ordinò di non sparare prima di rivolgersi all'entità con parole carezzevoli, costellate di tanti frammenti d'emozione. L'essere appariva docile e remissivo, si avvicinò al bibliofilo con fare privo di ostilità ma senza mutare l'espressione del volto o accennare a una risposta. Poi, come se i suoi nervi avessero ricevuto una scossa, le rilassate membra del suo corpo si irrigidirono. La testa ruotò di scatto sulle vertebre e gli occhi puntarono il giovane pilota facendolo sobbalzare. La faccia inespressiva dell'uomo mutò gradatamente, animandosi di un sentimento irriconoscibile, una sorta di inumano sarcasmo. Le sue labbra senza colore si contorsero come vermi su due sole parole. Sempre ride. La voce che le aveva assimilate sconvolse chi laudì fin nelle più profonde corde dell'animo, risvegliando dense sensazioni di orrore e ripugnanza dagli arcaici labirinti del cervello. Nigred fissava l'interlocutore come paralizzato, quasi fosse sul punto di andare in pezzi. Per una trentina di secondi i loro occhi furono stretti in un indissolubile legame, prima che i lineamenti del re di vivo tornassero a liquefarsi in una non-espressione priva di sentimento, sprofondando nuovamente in una serafica apatia. Vani furono i tentativi di Rubium di indurlo a pronunciare altre parole, tanto nei minuti successivi quanto nelle ore e nei giorni seguenti, mentre la magnum opus faceva ritorno a settori del cosmo più civilizzati. Il re di vivo, che fu battezzato Athanatos, era sottoposto più volte al giorno a ogni tipo di esame e controllo medico, che subiva senza frapporre la mentele, senza chiedere spiegazioni, collaborativo ma indolente. Non sembrava minimamente incuriosito o stimolato da ciò che lo circondava, così come non pareva conservare ricordi della sua vita randagia e della sua detenzione, meno che mai del terribile rito dolorosissimo al quale Rubium e Albeda l'avevano obbligato. Anche i risultati dell'analisi del suo organismo non rivelarono fatti di qualche rilievo. Tutti i parametri rientravano nella più consueta normalità, eccezione fatta per il sangue, poiché quel liquido tessuto era stato mutato in una sostanza nera e lucida del tutto simile alla materia di cui era composta la sfera. Indagarne la natura e la composizione, si rivelò fatica sprecata. Quel composto era refrattario a ogni analisi. Restava inerte ai reagenti e le apparecchiature non riuscivano ad estrapolarne la composizione chimica. Albeda, non senza frustrazione e incredulità, non arrivò mai neppure a stabilire se si trovassero di fronte a qualcosa di organico o inorganico. Tali fallimenti, anziché gettare l'ombra dello sconforto, riattizzarono nel bibliofilo l'ardore per la scoperta e la ricerca. Stabilì che Athanathos non doveva essere più relegato nella stiva, ma gli concesse licenza di spostarsi per la navicella a suo piacere. Questa sentenza incontrò le rimostranze dell'equipaggio, specie dell'ex medico, che trovava tale decisione imprudente e avventata. Ma Rubem non volle sentire ragioni, persuaso com'era, che una maggiore libertà avrebbe permesso alla formidabile creatura di sciogliere il blocco psichico che la ammutoliva, inducendola quindi a comunicare. La loquacità di Athanathos però non sorse mai, e seppur libero si spostava molto poco, spesso incantandosi per ore di fronte a oggetti assolutamente banali, restando inerte a qualunque tentativo di approccio. Non rifiutava né cibo né acqua, ma sembrava non essere soggetto agli stimoli della fame o della sete, tanto che, se non lo si induceva a farlo, non si nutriva e non beveva alcunché di sua spontanea volontà. Vagava con l'incedere erratico di uno spettro, inquietando con la sua pallida e silenziosa presenza. Talvolta qualche membro dell'equipaggio impegnato in qualche faccenda se l'era improvvisamente ritrovato di fianco, accorgendosene solo all'ultimo momento e ricevendone spaventi non di poco conto. Una volta, mentre si trovava a fare un censimento delle provviste liofilizzate della stiva tre, Xanthosis avvertì una presenza alle sue spalle. Voltandosi con apprensione scoprì Atanatos dietro di lui, il volto contratto in una paresi sorniona che gli gelò il sangue. Con apprensione vide le labbra del cadavere vivente schiudersi e liberare le parole «Le piace!» un istante prima che il suo viso si ammorbidisse nella sua solita maschera neutra. Al pari di un messaggero che ha terminato la sua missione, la creatura si accomiatò.